Musica Benvenuti a appuntamento con la TG10, c'è la pagina politica in apertura del telegiornale di oggi Si allarga la rosa dei nomi di coloro che ambiscono a diventare sindaco di Gela per i prossimi 5 anni L'ultima candidatura ufficiale è quella lanciata dal Movimento 5 Stelle, vera novità del panorama politico locale I grillini gelesi, ieri sera al termine di una riunione assai partecipata di attivisti, hanno deciso di puntare sull'ingegner Domenico Messinese Oggi noi lo abbiamo incontrato, vediamo il servizio curato da Franco Gallo C'è chi parla di primarie, c'è chi prende tempo e tentenna prima di decidere e c'è chi, come il Movimento 5 Stelle di Gela, ha già scelto Da ieri sera i grillini gelesi hanno il loro candidato ufficiale ad occupare dal prossimo mese di maggio la poltrona di primo cittadino della città del Golfo Si tratta di quello stesso Domenico Messinese, che appena un mese fa venne cacciato personalmente dal sindaco Fasulo Da una riunione pubblica dove si stavano spiegando, alla presenza dei vertici dell'Eni, i punti salienti dell'accordo firmato il 6 novembre scorso al Ministero dello Sviluppo Economico Come se il futuro di questa città dovesse interessare solo pochi intimi e solo quelli scelti dalla casta Tornando alla investitura ufficiale di Messinese, sentiamolo ai nostri microfoni alla sua prima uscita pubblica da candidato a sindaco di 5 Stelle Gelesi Domenico Messinese è dunque ufficialmente il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Gelesi Un'assemblea molto partecipata di attivisti lo ha praticamente deciso all'unanimità Sì, per me è un grande onore, è una grande responsabilità perché il gruppo ha designato me come portavoce e come candidato alle prossime amministrative È un impegno notevole, però io sono soltanto la parte frontale di tutto un gruppo che ha deciso di lavorare per cambiare questa città Di cambiarla non con le parole, ma con i fatti Noi nei prossimi giorni incomincieremo a presentare l'elaborato che è uscito fuori dalle proposte venute da tutti i cittadini gelesi Che sono stati racchiusi in un programma ben definito E questo programma ricordo che è in movimento come noi E quindi vi invito nei vari eventi che faremo a partecipare per poter dire la vostra E finalmente tornare a governare questo territorio Noi non dobbiamo più demandare, noi dobbiamo essere parte integrale del governo del nostro territorio In sintesi, cosa contestate a chi ha governato finora questa città? Io non devo contestare nulla perché i cittadini credo che hanno la capacità di capire le cose come vanno Noi vorremmo fare più le proposte perché qualcuno in modo strumentale ci attacca Che siamo quelli del no, siamo quelli che praticamente vogliono distruggere la nostra società Noi siamo quelli che invece vogliono costruire, ridare il potere ai cittadini E fare cadere queste persone che si sentono degli dèi E ritornare a prenderci noi la gestione del nostro territorio Noi non siamo schiavi, noi siamo delle persone libere E dobbiamo essere liberi di decidere il nostro futuro e il nostro destino La pagina della cronaca nera Un giovane di 23 anni, Manuel Blanco Brunone Che vedete nella foto Figlio di Giolesi, residente a Milano Ha perso la vita in un incidente stradale Che si è verificato sulla tangenziale di Crema L'auto del giovane sarebbe sbandata Finendo la sua corsa in un rettilineo contro un tir Che proveniva dalla corsia opposta Il sinistro è stato addirittura ripreso dalle telecamere di sorveglianza Degli impianti di distribuzione di carburante Non è chiaro il motivo della violenta sbandata Che ha portato la Ford Fiesta del ragazzo nell'altra corsia Dove sopraggiungeva un tir condotto da un autista moldavo di 47 anni Che ha tentato una inutile frenata Il ragazzo è morto sul colpo Riapriamo la pagina della politica È previsto per domani alle 10.30 Nei locali di Villa Peretti a Gela L'incontro promosso dal Movimento Articolo 4 Sarà l'occasione per presentare il consuntivo dell'anno 2014 Ed analizzare tutte le attività Le proposte e le iniziative svolte da Articolo 4 in questi mesi E le mozioni e le interrogazioni effettuate dal gruppo consigliare E sempre domani alle 10 all'Hotel Sileno È previsto l'incontro del coordinamento cittadino del Partito Socialista Si dibatterà sul tema Democrazia e partecipazione Riflessioni e proposte per una futura amministrazione L'invito è esteso a tutti i cittadini e ai rappresentanti delle forze politiche e civiche Ancora indici di ascolto in ascesa ieri sera per Agorà Il rotocalco settimanale di Canale 10 al suo sesto anno di programmazione Continua a tenere banco come ogni venerdì sera nelle case dei gelesi Con argomenti, temi ed ospiti che interessano la nostra città Nella puntata andata in onda ieri sera la parola d'ordine è stata primarie Se ne parla nel centro-sinistra gelese come da tradizione Ma oramai è un termine in uso anche nel centro-destra locale Il tutto ha conferma che si scaldano i motori nella politica gelese Per le elezioni amministrative che a maggio chiameranno alle urne i cittadini di Gela Che dovranno scegliersi il nuovo sindaco e i nuovi 30 consiglieri comunali Che andranno a governare la città del Golfo per i prossimi 5 anni In studio il sindaco uscente Angelo Fasulo e due suoi papabili sfidanti Alla consultazione che andrà in scena fra qualche mese Ossia Peppe Di Dio per articolo 4 e Lucio Greco per il nuovo centro-destra Assieme a loro il presidente dell'assemblea provinciale del PD Carlo Romano Che non ha escluso la possibilità che il maggiore partito cittadino Scelga il suo candidato alla prossima poltrona di sindaco Attraverso quelle primarie che lo stesso PD ha inventato in Italia Nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera Agorà ha dato in assoluta anteprima l'ufficialità del nome Che rappresenterà il Movimento 5 Stelle alla competizione elettorale di maggio I grillini gelesi infatti proprio ieri sera mentre andava in onda Agorà Hanno scelto l'ingegner Domenico Messinese come loro candidato a sindaco La puntata del programma di approfondimento giornalistico della nostra redazione È stata aperta dalla scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro Che in pieno tema con la trasmissione si è occupata di primarie e di prospettive per il futuro del governo cittadino Chi volesse rivedere questa interessantissima puntata di Agorà Potrà farlo domani sera con la replica integrale su Canale 10 alle ore 21 Oppure collegandosi già dalle prossime ore sul nostro sito internet tg10.it Cliccando sul link Agorà o ancora sul profilo Facebook di Canale 10 Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che interessano come sempre Gela e i gelesi Sono i carabinieri di Gela che indagano sull'incendio che si è verificato la scorsa notte intorno alle 2 in via della Menta In contrada Roccazzella Le fiamme hanno avvolto un Apollo ed un Alfa 147 perché già ante nel piazzale di una villa della zona Le auto appartengono ad un giovane operaio e alla madre che vivono fuori dalla Sicilia Deve scontare una condanna definitiva a due anni e sei mesi di reclusione Così un nuovo provvedimento d'arresto è stato seguito nei confronti del gelese Alessio Balbi 24 anni che vediamo nella foto Coinvolto in diverse operazioni condotte dalle forze dell'ordine E' stato trasferito nel carcere di contrada balate dalla polizia E' accusato di danneggiamenti e furti oltre ad aver avuto un ruolo nel giro locale dello spaccio di droga Sempre la polizia ha denunciato una donna per furto di energia elettrica Ed un giovane rumeno per avere preso di mira una struttura pubblica portando via cavi di rame Altre due denunce nei confronti di altrettante persone già coinvolte nel blitz della Guardia di Finanza Scattato dopo una lunga sfilza di furti nelle aree antistanti La raffineria Emi e il porto rifugio Si tratta di Antonino di Modica 41 anni e di Giuseppe Caci di 32 La loro imbarcazione sequestrata aveva infatti componenti rubati Da un po' di tempo in Italia è possibile pagare i ticket delle visite mediche anche presso altri presidi Oltre che in ospedale Voi avete ricevuto diverse segnalazioni da persone anziane che invece non erano informate Sì, il fatto è semplice, il pagamento dei ticket può avvenire in qualsiasi luogo o posto che sia Tra cui le tabaccherie, tra cui la posta, tra cui anche le banche e via dicendo Il problema è semplice, nell'aspo questa qui in via Butera dove ci troviamo noi qui in questo momento Non è più possibile pagare il ticket Da qualche tempo ho ricevuto le segnalazioni da parte dei clienti Che venivano indirizzati da parte degli infermieri, del direttivo dell'ASP A pagare il ticket in ospedale Per cui dover salire in ospedale con la macchina, avere questo piccolo disagio Per poi dover tornare qui in via Butera a compiere la visita Per cui penso che sia necessario fare presente alla popolazione Che c'è questa possibilità in qualsiasi tabaccheria Così come alla posta, così come anche alle banche Di poter pagare il ticket tranquillamente e di poter compiere la visita Per cui... È un servizio in più che i cittadini possono furire attraverso altri punti Sì, assolutamente perché alla fine è un versamento che noi compiamo Verso un conto corrente postale Ormai le tabaccherie si sa che possono pagare tantissimi servizi Per cui io dico alla popolazione che avete la possibilità E l'onere, la possibilità di scegliere La libertà di scegliere di dove volete pagare Le segnalazioni sono arrivate soprattutto da persone anziane Che arrivano da paesi limitrofi Sì, assolutamente perché tante volte persone anziane Che vengono lasciate dai parenti qui in via Butera Per dover fare questa visita E magari sono senza macchina Si trovano in difficoltà a dover salire in ospedale Per poi dover tornare qui a compiere la visita Si prevedono disagi idrici De martedì 27 gennaio prossimo A Mazzarino, Butera, Riesi e Niscemi E nelle contrade De Susino e Tenutella Fino al 31 gennaio infatti Sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Blufi E dunque ci sarà un fermo della distribuzione Caltacqua in una nota Sottolinea che provvederà a pianificare Un piano di emergenza Per garantire la fornitura Alle utenze sensibili Come scuole ed ospedali Passeggiando a Montelungo Si tratta dell'open day promosso questa mattina Dall'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gera Direttore da Viviana Aldisio E' stata l'occasione per l'istituto Che ha colto i genitori e gli alunni Che si apprestano alla scelta della scuola di primo grado Al fine di far conoscere i propri ambienti E il piano dell'offerta formativa Durante la mattinata gli alunni hanno messo in scena Una rappresentazione teatrale Abbiamo anche aperto la scuola di sabato Considerato che siamo una scuola che lavora in settimana corta Per dare la possibilità anche ai genitori Che chiaramente lavorano durante la settimana Di visitare i locali della nostra scuola E avere dei chiarimenti ulteriori Sull'iscrizione per la scuola secondaria di primo grado Mi fanno da cornice queste belle signorine Vestite da fiori perché in realtà Il nostro orientamento che ribadisco Si fa orientamento tutto l'anno E non solo oggi con le attività didattiche Che si portano avanti all'interno dell'istituto Oggi magari è una giornata per far vedere Quello che è il lavoro che loro hanno realizzato Rispetto realmente all'occasione di una passeggiata a Montelunco E le attività promosse dalla Green Esport Da lì tutto un lavoro di scienze Di ricostruzione e classificazione delle piante Da Aristotele, Gregorio Magno, Linneo Quindi andiamo ancora più indietro Proprio a dimostrazione che anche le scienze Quindi qualsiasi tipologia di didattica Debba avere uno svolgimento laboratoriale E in edicola il Corriere di Gela Settimanale indipendente di attualità politica Cultura e sport A diffusione comprensoriale Fondato e diretto da Rocco Cerro Nuova carrellata di possibili candidati a sindaco Un altro giro nei desiderata dei partiti politici Ma anche tra le tante liste civiche Pronte a scendere in campo alle prossime elezioni di primavera Il servizio è di Filippo Guzzardi Lo stesso Guzzardi in un altro servizio politico Viaggia nell'emisfero degli enti commissariati Dal governatore Crocetta A sua volta commissariato da Renzi Si va dall'ex provincia e exato Passando per le partecipate Così, scrive Guzzardi Si è instaurata in Sicilia Una sorta di democrazia sospesa Giulio Cordaro nella sua rubrica Settimanale politicamente scorretto Ironizza sulle primarie aperte del PD Qualche candidato, scrive Cordaro Sarebbe già stato visto far circolare I santini nei tanti negozi di cinesi sparsi in città Da Pinerolo, dove vive, anche il collega Elio Cultraro Dice alla sua sul PD gelese Atteso, come lui scrive, ad una vera e propria resa dei conti Nello Lombardo, invece, ha seguito per il Corriere L'ultima seduta di question time di consiglio comunale In cui è stata votata una sola mozione Nelle pagine interne, attualità e cultura Si parla del protocollo ENI Di attività UNICEF Del concerto degli Urban Fabula E Telesforo al Teatro Esquilo Orazio Accomando Intervista il capitano del Gela Messana Poi altri articoli su calcio e pallavolo Completano la pagina sportiva E infine la consueta pagina Di annunci economici gratuiti Vi ricordiamo, il Corriere di Gela È già in edicola Eccoci, seconda parte del telegiornale Tutti i lavoratori che hanno ottenuto In via giudiziale definitiva Il riconoscimento dell'esposizione Ultradecennale all'Amianto Devono presentare entro e non oltre Il 31 gennaio prossimo Istanza l'Inps Per beneficiare della rivalutazione Del periodo di esposizione all'Amianto Con coefficiente 1,5 Lo comunica l'Inca Della Camera del Lavoro Della CGL di Gela Per informazioni Rivolgersi alla sede del patronato In via Pitagora 19 Fidapa e Chivanis insieme Per celebrare la giornata della memoria L'appuntamento è previsto Per martedì 27 gennaio prossimo Alle 11 all'Istituto Scolastico Luigi Sturzo Diretto da Grazio Di Bartolo Il presidente della Fidapa Angela Incardona E il presidente del Chivanis Antonio Caglià Incontreranno gli studenti Sul tema Oltre l'Olocausto Una riflessione Per non perdere la speranza Relatori saranno Il sociologo Francesco Pira Docente di comunicazione E giornalismo dell'Università Degli Studi di Messina E lo storico Giuseppe Felici Docente del liceo Eschilo di Gela Si terrà lunedì 26 gennaio prossimo Alle 18.30 presso la libreria Mondadori di Gela La presentazione del libro Amianto Una storia operaia Scritto da Alberto Prunetti È la prima tappa di un tour Che prevede anche la presenza A Catania Siracusa E Palermo L'iniziativa è del comitato No Muos di Gela In collaborazione con L'Osservatorio Nazionale Amianto Lo scrittore toscano Racconterà la storia del padre Del luogo simbolo Delle morti Per la polvere bianca Casale Monferrato Secondo concorso Junior Chef In cucina con la mia insegnante Per gli alunni delle terze classi Delle scuole secondarie Di primo grado Lo promuove l'istituto professionale Per i servizi dell'enogastronomia E l'ospitalità alberghiera Luigi Sturzo In collaborazione con la Proloco E la sponsorizzazione Della ditta Cayman Possono partecipare al concorso Che si terrà dal 7 all'8 febbraio prossimi Le scuole secondarie di primo grado Di Gela, Butera e Niscemi Il tema del concorso è Torta per eventi La partecipazione è gratuita Per prendere visione del bando completo E ritirare il modello di adesione Con la scheda ricetta Bisogna rivolgersi alla segreteria Della scuola di appartenenza Ulteriori informazioni Alla segreteria dell'alberghiero Al numero di telefono 0933 820036 La sezione gelese della FIDAPA Preseduta da Angela in Cardona Promuove il secondo concorso letterario Sul tema I giovani e il viaggio Prospettive, sogni e aspettative Il concorso è rivolto Agli alunni delle scuole superiori Che frequentano il terzo Il quarto e il quinto anno Obiettivo è quello di riaffermare Il perenne valore Dello scambio culturale Della integrazione Della conoscenza dei popoli Per informazioni 328-62-50-260 Oppure 339-38-93-952 La banca nell'era di internet Si tratta del concorso Promosso dall'Istituto Luigi Sturzo di Gela In collaborazione con la banca Mediolanum Rivolto alle classi terze Delle scuole secondarie Di primo grado di Gela Consiste nel raccontare In maniera creativa e originale L'evoluzione della banca E i servizi che offre la banca virtuale Sfruttando tutte le potenzialità espressive Offerte dalla sinergia De diversi media E dall'uso competente Consapevole Delle risorse della rete Per informazioni Bisognerà scrivere all'indirizzo Mariangela.faraci.alice.it Sono due le donazioni di sangue Promosse dall'ADAS di Gela Si terranno domani E lunedì 26 gennaio Nei locali del centro di raccolta fisso Di via degli Appennini Numero 5 A Gela Ultimo appuntamento domani Al convitto Pignatelli Con la rassegna Natale Musiche e canti tradizionali Promossa dall'Associazione Amici Della Musica Navarra di Gela Alle 19 Previste il concerto del duo Martina Vacca al violino E Mirko Ganci al pianoforte E adesso occupiamoci di sport Il punto in questo servizio Prunno di campionato importante Per l'attratico e Gela Nell'ambito della diciottesima giornata Di promozione I gelorossi se la vedranno in casa Contro il Santa Croce Mentre Biancazzurri Saranno ospiti del città di Catania Impegni da prendere con le dovute Precauzioni Partiamo dalla formazione Allenata da Simone Pardo Dopo la pesantissima sconfitta 4-1 di domenica scorsa Palazzo Lacrede E le conseguenti dimissioni Dal direttore sportivo Marco Cammarata Del team manager Luigi Turco E del direttore generale Antonio Scimè Di Martino e compagni Devono assolutamente ritornare A vincere Per non disperdere Il prezioso patrimonio di punti Che ha portato L'attratico Gela Al secondo posto In classifica Conquistare il successo Per l'antonare I venti di crisi Che soffiano da qualche giorno A questa parte Non sarà facile Considerato che il Santa Croce Reduce da un turno di riposo Venderà cara la pelle I ragusani In gradutori Accusano solo 4 punti di ritardo Da Leone e compagni Dunque si tratta Di una partita Che nasconde Numerose insidie Si gioca Per l'alta classifica Non sarà dell'incontro L'attaccante Fabio Venniro Squalificato per un turno Dal giudice sportivo Il Santa Croce In Coppa Italia Ha eliminato I gelorossi Dalla competizione regionale Trasferta invece Per il Gela La squadra Dal tecnico Toto Bruculeri Se la vedrà Con il città di Catania Anche gli attnei Domenica scorsa Hanno riposato I biancazzurri Dopo la splendida vittoria Conquistata Nel turno precedente Con la capolista Sicula Leonzio Non devono più fermarsi Se vogliono ambire A posizioni Delitte in classifica Il distacco De bianconeri lentinesi È di quattro lunghezze Ed un solo punto Divide il capitano Alessandro Messana Dai cugini Della tre di Gogela Bisogna continuare Sulla stessa falsa riga Per la partita De domani L'allenatore biancazzurro Dovrà fare a meno Di ben tre giocatori Tutti squalificati Si tratta Del difensore centrale Alfio Chiavaro Del laterale difensivo Fabio Campanaro E della trequartista Giuliano Alma Vincere a Catania Contro una squadra Che naspa in classifica Quota 18 Sarebbe di straordinaria Importanza Punti per strada I giolesi Ne hanno lasciati Tanti in questo campionato Soprattutto contro Le cosiddette piccole Nel campionato Di biuro maschile Di pallavolo Trasferta per la Make Service Gela Il sessetto biancazzurro Sarà ospite Della latina Che la settimana scorsa Ha battuto nettamente Per 3 a 0 Il volley brolo I giolesi Si presenteranno All'appuntamento Forti del successo Conquistato Contro il 5 frondi Per 3 a 1 Obiettivo successo Dunque per la truppa Di Fabrizio Marano Che punta All'raggiungimento Della prima posizione Attualmente occupata Dal Civita Castellana Proprio domani I laziali Osserveranno Un turno di riposo Fino al 27 gennaio prossimo Al Cineteatro Antitoto Di Gela Anteprima nazionale Del film Biaggio Della regista Pasquale Scimeica Interpretato Da Marcello Mazzarella Nel cast Lo ricordiamo Vincenzo Albanese Renato Lenzi Omar Noto Doriana Lafauci E Silvia Francese Ed è stato allestito Il cartellone Della stagione Teatra di Cabaret Alla Cineteatro Antitoto Di Gela Si parte Il 19 febbraio Alle 21 Con Maglio Dovi Previsti anche Gli spettacoli Di Gennaro Calabrese Antonio Pandolfo E Sergio Vespertino Il costo Dell'abbonamento Per 4 spettacoli È di 40 euro Ogni singolo spettacolo Invece Ha un costo Di 12 euro Per informazioni C'è un recapito telefonico 0933 82 2707 Lo ripetiamo 0933 82 2707 Con la pagina Dedicata al Cabaret Noi chiudiamo L'informazione di oggi Grazie per averci seguito Appuntamento Alle prossime edizioni